Non vi sono batteri nell'acqua erogata alle abitazioni di Via Chieti a Montesilvano. Lo afferma la direzione dell'ACA di Pescara, a seguito del risultato delle analisi effettuate dai laboratori interni dell'azienda acquedottistica. Pertanto, dichiarano i vertici di ACA, la problematica che si è verificata è circoscritta solo all'utente del civico numero 4 di Via Chieti e per cause imputabili alla rete idrica di distribuzione interna. I due prelievi svolti lo scorso 22 agosto avevano fatto registrare la non conformità dell'acqua a seguito di un campionamento effettuato dopo il contratore dello stesso utente. Comunque, in via precauzionale presso questa abitazione, l'azienda effettua da oggi i lavori di rifacimento dell'allaccio con la dismissione della vecchia condotta. Per legge però, precisa l'ACA, prima di dichiarare l'assoluta potabilità dell'acqua di Via Chieti, dobbiamo attendere i risultati delle analisi che verranno effettuate dall'Arta appena ultimati i lavori. Nel frattempo, i risultati delle nostre analisi sono stati inviati al comune di Montesilvano, alla ASL e all'Arta. Non appena anche l'Arta e la ASL confermeranno l'ottima qualità dell'acqua, probabilmente domani, si potrà dichiarare nuovamente la potabilità dell'acqua erogata alle famiglie, che nel frattempo potranno continuare ad usarla per fini domestici. A Silvi, invece, il vice sindaco Enrico Marini ha fatto sapere che la ASL di Teramo ha autorizzato l'apertura dei pozzi di Cerni di Pinetto, poiché i prelievi effettuati hanno espresso la conformità dell'acqua ai limiti di legge. Pozzi che erano chiusi dal 2008 e che il sindaco di Silvi, Vallescura, nelle scorse settimane, aveva fatto riaprire firmando due ordinanze, l'ultima scaduta due giorni fa, al fine di limitare la crisi idrica di quest'estate basandosi su analisi dell'Arta. Sulla vicenda è intervenuta nei giorni scorsi Lega Ambiente, che ha annunciato un esposto alla Procura della Repubblica per far luce su questi atti e accertare eventuali responsabilità. Per gli ambientalisti le ordinanze del sindaco di Silvi erano illegittime, in quanto prive del giudizio di conformità dell'unico ente a ciò deputato, la ASL di Teramo.